Buon pomeriggio, siamo alla quarta tappa di questa storia delle origini del rinnovamento carismatico cattolico nel mondo e poi della storia del rinnovamento nello spirito in Italia e abbiamo visto come la scorsa settimana il carissimo fratello Don Fulvio Bresciani ci ha raccontato la sua testimonianza di partecipante a degli incontri nazionali che sono stati organizzati nel rinnovamento dal 1977 al 1978 e poi da lì sono nati tanti incontri nazionali. Oggi pomeriggio ci soffermeremo ancora un poco su questi incontri perché sono incontri fondamentali per la vita del rinnovamento nello spirito santo in Italia e ho preso un po' di documentazione e un primo documento è una lettera di Don Dino Fulvio, allora coordinatore nazionale, cioè era l'apice in quel momento l'incarico di coordinatore nazionale della vita del rinnovamento su carta intestata e proviamo una piccola chicca, una piccola curiosità, Comitato nazionale di servizio del rinnovamento carismatico cattolico, questo è Don Dino Fulvio. Cosa significa? Significa che questo termine rinnovamento carismatico cattolico negli anni iniziali della vita del rinnovamento nello spirito in Italia era il nome, la denominazione usata anche dal Comitato nazionale di servizio, vi ricordo che il primo Comitato nazionale di servizio è stato eletto nel primo congresso nazionale per i animatori a Milano Marittima nel 1977 e anche qui c'è una piccola chicca qui con me, il verbale di quelle elezioni, dal verbale di quelle elezioni risulta i lavori di questo congresso nazionale per i animatori ed è anche bello sottolineare una cosa, che i primi incontri, il primo incontro nazionale del rinnovamento carismatico o rinnovamento nello spirito, come vogliamo poi denominarlo dopo, non riguarda un incontro di popolo, ma riguarda un incontro di responsabili e durante questo incontro di responsabili che viene eletto il primo Comitato nazionale di servizio, l'abbiamo già detto, con Don Dino Foglio, coordinatore, suonanzi la Beretta, padre Robert Farisi, padre Mario Pancera e l'avvocato Ermete Ferrari. Questo è il primo verbale di questa prima elezione. Come è avvenuta questa elezione? Alcuni comitati di animatori del centro, del sud e del nord hanno elaborato delle liste, si sono messi in preghiera, hanno inviato i nominativi e in realtà nella inconsapevolezza gli uni degli altri lo spirito aveva già soffiato nella direzione di questi cinque nomi. Quindi è sì una elezione, ma in realtà è una disegnazione avvenuta per opera dello Spirito Santo. Vogliamo soffermarci sulla scelta che viene fatta proprio nel 1977 a Milano Marittima di denominare l'esperienza carismatica in Italia non più rinnovamento carismatico cattolico, ma rinnovamento nello Spirito Santo. È una scelta abbastanza anche forte perché molti desideravano che l'innovamento continuasse a denominarsi in questo modo. Dove nasce questa scelta? Nasce da due o tre considerazioni di natura molto importante. Se voi avete visto in queste settimane nella programmazione di un altro segmento di Salvatore Martinez c'è stato il video di Paolo VI che nel 1975 riceve gli animatori internazionali del rinnovamento carismatico cattolico. Ebbene, è proprio Paolo VI che in quel discorso non usa il termine rinnovamento carismatico cattolico, ma parla di rinnovamento nello Spirito o rinnovamento spirituale. Un rinnovamento spirituale, autentico, un rinnovamento cattolico nello Spirito Santo. Lo stesso Cardinale Siuvenense nel 1974 nel primo documento di Malin usa un'accezione di questo tipo che preferirebbe il termine rinnovamento spirituale anziché rinnovamento carismatico cattolico per evitare alcune difficoltà, cioè il rischio di essere non compresi sugli obiettivi, sulle finalità di questo rinnovamento, cioè che si potesse fermare solo alla riscoperta dei carismi o quasi a una monopolizzazione dei carismi e soprattutto di quei carismi meno abituali conosciuti, cioè glossolaria, profezia, guarigione. Sempre nel 1974 lui fa un'intervista che è in appendice ai documenti di Malin con un notissimo teologo René Laurentin, un'autorità mondiale nel campo della mariologia. Laurentin fa questa domanda a Siuvenense, diciamo così, come denominare questo movimento pentecostale, carismatico, cattolico, rinnovamento carismatico e Siuvenense testualmente dice questo. Il termine pentecostalismo cattolico rischia di generare confusioni con il gruppo protestante che si definisce con questo nome dall'inizio del secolo. Accetto movimento carismatico a patto che sia chiaro che non si tratta in alcun modo di una monopolizzazione dei carismi, ma preferisco rinnovamento nello spirito. Tanto che nei successivi documenti di Malin, alcuni documenti di Malin li denomina proprio con il titolo rinnovamento nello spirito, rinnovamento nello spirito e servizio dell'uomo, ad esempio quello che abbiamo visto la volta scorta scritto con Helder Camara. Nel 1977, grazie a un gruppo di teologi in Italia, ne nominano uno per tutti, padre Domenico Grasso, nel primo congresso animatori si decide quindi di usare questo nome, rinnovamento nello spirito, che poi era ispirato alla lettera di Tito, dopo appunto si parlava di un lavaggio di rigenerazione nello spirito santo, di rinnovamento nello spirito santo. Quindi aveva anche un addentellato scritturale, un addentellato biblico. E avviene la convocazione poi della prima convocazione nazionale. Quando avviene questa prima convocazione nazionale? Dal 29 aprile al primo maggio 1978. Anche qui è molto bello farvi vedere la lettera di convocazione, la circolare di convocazione di Dondino Foglio, targata 26 marzo 1978, Pasqua di resurrezione. E guardate il tema di questa convocazione. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E guardate le relazioni. Lo Spirito Santo nella vita del cristiano, lo Spirito Santo nella vita dei gruppi di rinnovamento. I simposi poi sono ancora, diciamo così, di più interessanti per farci cogliere come fin dalle origini il rinnovamento nello Spirito Santo abbia trattato dei temi che sono ancora attualissimi e che sono ancora in qualche modo oggetto di approfondimento nel nostro cammino. Gli incontri di preghiera, lati positivi e negativi. La crescita del gruppo, maturazione spirituale e testimonianza. Gruppi di servizio, il pastorale, il sostegno, ministeri. Rinnovamento nella famiglia. Il tema della famiglia è stato già oggetto di approfondimento fin dalla prima convocazione nazionale. Altro simposio, catechesi, seminari e insegnamenti, cioè la formazione come elemento fondamentale del cammino del rinnovamento. Guardate questo punto. Dal gruppo di preghiera alla comunità, già nel 1978, nella prima convocazione nazionale, si sottolineava come l'esperienza del rinnovamento generasse vita comunitaria e il ruolo del sacerdote nel gruppo del rinnovamento. E qui Don Nino poi dà tutte le spiegazioni tecniche. Chi sono stati i relatori a questa prima convocazione nazionale? Padre Natale Merelli, Don Dino Foglio, Padre Raniero Cantalamessa, Padre Robert Faresi, Padre Mario Pancera. Sacerdoti religiosi, Padre Natale Merelli e Padre Raniero Cantalamessa, provenienti dalla famiglia francescana, Padre Robert Faresi, Gesuita, Padre Mario Pancera di Uniano. Come ho detto l'altra volta, la presenza di religiosi all'interno della vita del rinnovamento è stata sempre molto forte, perché religioso forse di per sé un afflato carismatico è generato da un carisma sotto alcuni aspetti e quindi ritrova anche nel rinnovamento carismatico degli aspetti identitari della propria esperienza. Avete visto un nominativo che ancora oggi è il massimo ambasciatore del battesimo nello spirito e dell'esperienza del rinnovamento carismatico nel mondo, Padre Raniero Cantalamessa. Padre Raniero fa la prima esperienza del rinnovamento nel 1977 a Kansas City in un incontro negli Stati Uniti d'America. Lui era molto ritubante nei confronti del rinnovamento, non aveva un buon approccio inizialmente con i gruppi del rinnovamento nello Spirito Santo, ma durante questa esperienza, come lui stesso tante volte ha raccontato, ha in qualche modo vissuto il suo battesimo nello spirito personale e ha riscoperto la Signoria di Cristo nella sua vita. Padre Natale Merelli, un altro notissimo francescano che è stato per anni uno dei più grandi evangelizzatori in Italia, un evangelizzatore carismatico, ha diffuso l'apertura di gruppi, ha fatto seminari di vita nuova in tutta Italia, aveva iniziato il suo cammino nel gruppo Maria di Roma, il famoso storico gruppo Maria da cui poi sono nati tantissimi gruppi di gruppi Maria in tutta Italia. Per anni è stato membro poi anche del Comitato Nazionale di Servizio e sul mandato del Cardinale Poletto, vicario di Roma, ha seguito anche i gruppi come assistente spirituale e i gruppi del rinnovamento nello Spirito Santo. Prima di questa convocazione del 1978, faccio anche una piccola notazione personale, c'erano stati due precongressi che avevano preparato questa convocazione nazionale e ce l'ha ricordato proprio il caro Don Fulvio la settimana scorsa e in uno di quei precongressi è iniziato il mio cammino personale, precongresso che si è avuto a Salerno dal 29 al 31 ottobre del 1977. Quella è stata la mia prima esperienza personale di incontro con il rinnovamento nello Spirito Santo. Non ci capivo nulla, ero un adolescente, ma come entrai in questa assemblea che lodava, cantava, benediceva, pregava in lingue, in qualche modo è come se avessi sentito per me una chiamata, era come se il Signore mi dicesse questa è casa tua. E da lì è iniziato anche il mio cammino personale, come il cammino di tantissimi fratelli e sorelle nel rinnovamento nello Spirito Santo. Diciamo che gli anni che vanno dal 77 al 78 al 79 all'80 c'è una grande espansione del rinnovamento nello Spirito che da pochi gruppi, da poche decine di gruppi, già a fine 1978-79 arrivano ad essere circa 400-450 gruppi. Continua il cammino del rinnovamento nel 78 c'è la prima convocazione nazionale, come vi ho detto prima, la quale personalmente non ho partecipato perché ero un ragazzino, ma ho partecipato qualche mese dopo alla seconda conferenza animatori, sempre convocata da Dondino dal 28 al 31 ottobre e si faceva pensata alla domus facis a Roma per anni è stata fatta alla conferenza animatori. Risottolineo questo aspetto della conferenza animatori perché se è vero che la convocazione nazionale assumiva un grande compito di evangelizzazione, di incontro, di relazioni, di condivisione di un'esperienza e anche di vita ecclesiale perché le nostre convocazioni nazionali rappresentano anche in qualche modo una grande esperienza di vita ecclesiale, le conferenze animatori in realtà sono diventate delle tappe miliari per orientare il cammino sul piano pastorale, cioè ci si rendeva conto, ci si è reso conto fin dall'inizio della importanza di formare coloro che erano alla guida e questo credo che sia stata una delle intuizioni più importanti del rinnovamento nello spirito d'Italia, anche forse diciamo così in un'attenzione più marcata rispetto a quello che si faceva all'estero perché la scommessa sulla formazione delle guide, dei responsabili, degli animatori, cioè di coloro che in qualche modo ne assumono la responsabilità è stata una scommessa che ci ha permesso di crescere molto sul discepolato e sulla formazione oltre che sugli aspetti spirituali, cioè in qualche modo questa formazione permanente in questi incontri annuali nelle conferenze animatori ci ha garantito un passo e ci ha garantito una stabilità che non sempre riscontriamo in altri paesi del mondo che hanno fatto scelte diverse. Nello stesso tempo questo incontro animatori nazionali insieme alla grande convocazione nazionale sostanzialmente generava molta comunione, molta unità perché pur lasciando i gruppi nella libertà di vivere la propria esperienza così come lo spirito la determinava, la condivisione dell'esperienza, la condivisione dei cammini, la condivisione dei passi da fare in qualche modo ci si sosteneva gli uni con gli altri con la creazione di quelli che sono stati i primi organi di servizio, prima di tutto a livello interregionale, abbiamo detto che ce n'era uno al centro, uno al nord, uno al sud e poi mano a mano al livello regionale. Il rinnovamento così continua ad espandersi, continua a crescere, continua sempre di più anche grazie alla formazione che come abbiamo visto dalla prima convocazione del 1978 è un elemento fondamentale, cioè fin dal primo incontro nazionale, dalla prima convocazione nazionale viene sottolineata l'esigenza del discepolato e del discepolato attraverso un cammino formativo. L'incontro di preghiera non è sufficiente a garantire che il battesimo dello spirito, la preghiera di diffusione dello spirito possa poi farci perseverare nel tempo con il Signore. Quello che San Paolo direbbe, se viviamo nello spirito dobbiamo anche camminare nello spirito e questo cammino nello spirito esige l'approfondimento attraverso la parola di Dio, attraverso la vita fraterna, attraverso la condivisione, attraverso la preghiera. I quattro pilastri della vita comunitaria che gli Atti degli Apostoli, in Atti 2,41, ci pongono sempre in maniera vitale e necessaria. Questa intuizione, diciamo così, non è un'acquisizione degli ultimi anni della vita del rinnovamento nello spirito, ma è un'intuizione originaria e originale sotto alcuni aspetti, perché mutuata anche da esperienze che si vivevano all'estero, perché nel frattempo in America erano nate delle vere e proprie comunità, fino a diventare comunità di vita, come anche altre esperienze del genere in Francia o altre esperienze nel Sud America e in qualche modo il tessuto comunitario della nostra esperienza viene individuato, intuito e suggerito al cammino dei gruppi fin dalle origini, soprattutto anche attraverso la formazione permanente degli animatori che, come abbiamo visto, vede una volta all'anno un importantissimo incontro nella conferenza animatori. 79 c'è la seconda convocazione nazionale dei gruppi del rinnovamento e guardate il titolo, Siano una cosa sola perché il mondo creda. Anche qui viene sottolineato l'aspetto della comunione per l'evangelizzazione. Chi sono i relatori? Io ho avuto la gioia di partecipare a questo, questo è stato il mio primo rimini, purtroppo sto registrando dalla sede, ma a caso ho ancora l'adesivo, perché allora era l'adesivo di questa mia prima convocazione che ha segnato profondamente la mia vita, è stata per me una rinnovata Pentecoste personale. E arriviamo ad un momento storico della vita, del rinnovamento, non soltanto del rinnovamento nello spirito, ma del rinnovamento carismatico. Quindi il rinnovamento nello spirito incomincia ad assumere un ruolo, diciamo così, non ricercato, non voluto, ma osete dire quasi naturale per la vicinanza fisica, di riferimento con la Chiesa Cattolica universale. Avviene una prima udienza dei gruppi italiani del rinnovamento nello spirito santo con San Giovanni Paolo II, 23 novembre 1980. È una data storica, perché dopo quell'incontro del 75 con Paolo VI non c'erano stati più incontri di popolo generali degli aderenti al rinnovamento carismatico del mondo con il Pontefice. E questa udienza che vide presenti in San Pietro, oltre 10.000 persone assiepiati, gli uni con gli altri, lo ricordo ancora personalmente, è certamente un'udienza di rinnovamento nello spirito italiano. Ma nello stesso tempo, in questo rapporto diretto con il Pontefice, San Giovanni Paolo II parla in realtà al rinnovamento carismatico del mondo intero. Da questo punto di vista questo discorso scaturisce una pietra miliare nel nostro cammino, dalla gioia che ci ha manifestato nell'incontrarci. Tutti quanti noi forse abbiamo ancora negli occhi la fotografia di San Giovanni Paolo II che passa nel corridoio centrale dell'Aura Nervi con le braccia allargate, quasi a voler toccare le ali festanti del popolo del rinnovamento nello spirito, desideroso di toccarlo. E lui parla di rapitori del regno, come qua si dice mi volete rapire, ma noi non volevamo rapire San Giovanni Paolo II, volevamo in qualche modo affermare il nostro affetto, il nostro amore, la nostra vicinanza attraverso di lui a tutta la vita ecclesiale. Allora sì, rapitori del regno, così ci ha chiamato. Il regno di Dio esiste, dirà San Giovanni Paolo II, ed esiste per essere rapito. E' questo il messaggio che vi affido nel giorno dedicato a Cristo Re, siate rapitori del regno. Nel suo discorso, che io vi invito ad andare a rileggere, trovate i sentimenti di gioia di questo incontro, ma provate anche una presentazione del battesimo nello spirito sul piano biblico e sul piano della vita ecclesiale. Il richiamo a vivere la nostra esperienza in comunione con la Chiesa. Sottolinea come in qualche modo questa rinnovata azione dello Spirito Santo nasce anche in qualche modo favorita dal Concilio Vaticano II e sottolinea anche alcuni rischi. ed è bello che li sottolinea con una affabilità, li sottolinea con una sensibilità, diciamo così, davvero paterna. Guardate che il linguaggio usa nel sottolineare i rischi possibili di vivere in un modo sbagliato l'esperienza del rinnovamento nello spirito, questa vita nuova nello spirito. dice, figli carissimi, avete grandi prospettive, non mancano i rischi perché l'azione dello spirito si svolge in vasi di creta. Voi conoscete quali sono questi rischi? Un eccessivo peso dato ad esempio all'esperienza emozionale del divino, cioè la ricerca dell'esperienza del battesimo dello Spirito, della preghiera per una renovata effusione dello Spirito soltanto per una gratificazione emotiva interiore. La ricerca smodata dello spettacolare e dello straordinario, cioè il miracolismo, la ricerca dei miracoli a tutti i posti. L'indulgenza e interpretazione affettate e distorte della scrittura, il fondamentalismo biblico, cioè quello di assumere la parola di Dio per noi, non come fondamento delle nostre scelte, ma come una sorta di legge normativa senza discernimento. E il compiacimento narcisistico che si isola e si chiude. C'è il rischio di pensare che la vita cristiana può rinchiudersi solo nell'appartenere a un gruppo del rinnovamento. Anche qui ho grande lungimiranza perché in qualche modo San Giovanni Paolo II ci avverte di quello che poi Papa Francesco cercherà di dire a tutta la Chiesa di questo tempo. Cioè attenzione, preferisco una Chiesa in uscita, una Chiesa che non si chiude in se stessa. San Giovanni Paolo II ce l'ha detto a noi del rinnovamento, attenzione al compiacimento narcisistico di un'isola che si chiude. E poi mette in evidenza come la nostra missione di rinnovare non soltanto i singoli aderenti, le singole persone che incrociano l'esperienza della vita del rinnovamento, ma andava ad estendersi, bisogna estenderla alla vita della Chiesa attraverso soprattutto la testimonianza dell'amore e della carità. È stata un'edenza storica che in qualche modo ha facilitato ancora di più negli anni Ottanta l'apertura di tanti gruppi, di tante realtà del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. L'essere stati ricevuti come rinnovamento nello Spirito italiano da San Giovanni Paolo II in qualche modo non soltanto ha messo un sigillo magisteriale sulla nostra esperienza, ma ha costituito per tanti vescovi, per tanti parroci, garanzia di un cammino ancorato in maniera profonda e reale alla vita della Chiesa. Io ho terminato oggi pomeriggio questo breve scursus storico che va in realtà dagli anni 76, 77, 78, 79 fino a 1980 e con gioia vogliamo ascoltare in questo momento la testimonianza di un fratello carissimo, Donato Sciannameo, uno dei primi membri di Comitato Nazionale in Italia dopo la prima tornata di questi fratelli sacerdoti, ma soprattutto uno dei primi ad accogliere l'esperienza del rinnovamento nello Spirito al Sud, a Bari insieme a tanti altri fratelli e sorelle. Poi Donato è stato membro il Comitato Nazionale, direttore della rivista, lo ringrazio per la sua testimonianza di fede e per la tua testimonianza che affonda le radici nell'esperienza di quegli anni. Pregate sempre per noi, grazie per come state seguendo questo segmento, perché state scontrando il gradimento di molti e vi suggerisco anche in qualche modo di rendere partecipi di queste storie i fratelli e le sorelle dei vostri gruppi, delle vostre comunità. Non date per scontato che queste notizie, che in modo molto generico, non è scientifico il lavoro che sto facendo, è sommatico, sto cercando di dare perché penso che sia importante anche per cogliere come le origini, influenzano anche ad oggi il nostro cammino. Alleluia, Gesù è il Signore! Carissimi fratelli tutti, è con grande gioia che vi do testimonianza di quello che è successo il 23 novembre 1980, come si suol dire, io c'ero, perché noi avevamo costituito il primo gruppo del rinnovamento in Puglia nel 1975, eravamo soprattutto dei giovani e quindi quel giorno famoso, 23 novembre, avevamo organizzato un pullman per andare a Roma perché per la prima volta il Papa accoglieva la grande famiglia del rinnovamento e quindi quando siamo arrivati in Piazza San Pietro ci siamo sentiti parte non solo della grande famiglia del rinnovamento, vedevamo i cartelli delle varie parti d'Italia, dalla Sicilia al nord Italia e c'erano tutti, c'erano tutti i primi gruppi di quel tempo e poi nella Sala Nervi quando il Papa ci ha accolti in maniera così affettuosa, ha detto subito, ci ha fatto la fotografia, vedo un'assemblea dove ci sono giovani, adulti, anziani, uomini e donne che sono uniti da quell'amore che è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Ha parlato appunto dello Spirito Santo, di questa effusione dello Spirito, di questa profonda esperienza che il rinnovamento stava vivendo e per noi è stato bello sentire parlare il Papa di quella che era la nostra esperienza, quindi non eravamo più una setta o delle persone che avevano il pallino dello Spirito Santo o i cosiddetti spiritati o ubriachi dello Spirito, ma eravamo la Chiesa, ci sentivamo Chiesa in quel momento, accolti dal nostro padre spirituale, appunto il Papa. Ci ha raccomandato di portare il rinnovamento nella Chiesa, come? Attraverso tre elementi che vengono poi a galla tutte le volte che incontriamo un Papa, e cioè, mi raccomando, la preghiera, la testimonianza e il servizio. La preghiera, beh, il rinnovamento portava un'esperienza nuova negli anni Ottanta. La Chiesa non pregava molto, nel senso che quando ci si incontrava nelle parrocchie si pensava più a organizzare incontri, programmi, ma la preghiera non veniva messa al centro dell'incontro per poi parlare dei veri programmi. C'è quella parola che è molto bella degli atti degli Apostoli. Prima di prendere una qualsiasi decisione, gli Apostoli pregavano. Quindi lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Ecco, nel rinnovamento, sin da quei primi tempi si faceva così, si pregava e poi si decideva. Quindi la preghiera ritorna a essere il centro della vita cristiana, in un periodo in cui si pensava molto più a impegnarsi nel sociale piuttosto che agli aspetti spirituali della vita cristiana. E poi la testimonianza. E certo, se preghiamo poi dobbiamo dare testimonianza e per poter dare testimonianza dobbiamo essere anche persone credibili. Non abbiamo bisogno di predicatori, ma abbiamo bisogno di testimoni. La società di oggi ha bisogno di testimoni credibili che quello che dicono poi realizzano nella propria vita, nella vita di ogni giorno, nella vita professionale, nella politica, nell'impegno sociale. E quindi questa testimonianza che noi abbiamo imparato in quegli anni a dare molto importanza per dare gloria a Dio soprattutto, non tanto a noi stessi, ma la testimonianza ci serviva per dare gloria a Dio perché era lui che operava. È diventato un importante aspetto anche dei nostri incontri di preghiera. E poi il servizio, questo servizio che ritorna costantemente. Non puoi amare Dio se poi non ti impegni a favore dell'uomo, soprattutto dell'uomo bisognoso. Se ami Dio necessariamente non puoi voltarti dall'altra parte quando un fratello chiede aiuto. E quindi un servizio non solo nel gruppo, ma un servizio anche nella società civile. Quindi tutto questo ha segnato un attaccamento da parte nostra alla Chiesa. Noi venivamo da un periodo in cui c'era contestazione dei vescovi, contestazione dei preti, contestazione anche del Papa. Ma noi sentivamo invece quel giorno il desiderio invece di amare il Papa, di amare i vescovi, di amare i sacerdoti. Un sentimento che portiamo indenne anche oggi, dopo tanti anni di cammino. Possiamo dire che ci fu un vero e proprio terremoto quel giorno nella Chiesa e purtroppo ci fu anche un terremoto nella Campania. Tornando a casa abbiamo purtroppo, dopo essere usciti da una galleria nei pressi di Ariano Irpino, ci siamo ritrovati con il terremoto. Eravamo sconvolti perché dopo aver vissuto una giornata così bella con il Papa, ci ritrovavamo invece ad affrontare questa situazione che non ci coinvolgeva direttamente, essendo noi pugliesi, ma che sicuramente coinvolse tanti fratelli della Campania, soprattutto della Bellinese e del Beneventano che subirono questa disgrazia. Il giorno dopo mi ricordo che noi ci impegniamo subito a fare una raccolta di indumenti e di cibo proprio per aiutare questi fratelli che erano stati colpiti dal terremoto. Quindi una giornata storica, una giornata che non si può dimenticare, soprattutto perché in quella giornata abbiamo scoperto che noi di rinnovamento siamo chiesa, siamo importanti per il rinnovamento della società. Grazie a tutti.